Ma l'ho più sicuro! Sì, quant'anni dai? E arrivarono a Barcellona In Spagna però Barcellona in Spagna, Barcellona in Sicilia Barcellona in Spagna o in Sicilia? In Spagna torno fanno la corrida Una volta! A Roma allora A Mediaset E allora C'era un ristorante E lui Com'è il caso? E caspita di carne Scusate Autista Autista E allora questi due sposini Andarono a mangiare nel ristorante Tipico Adatto alla corrida E gli chiedono Cosa volete mangiare Cosa avete? Abbiamo l'intestico del toro L'ha addolcito questo? Sì Davide E allora disse Forse vediamo com'è E allora si mangiare E rimanerano sbalordetissimi Poi quando c'era un paese Tutte le miglie non lo raccontarono Guarda se vi trovate ad andare a Barcellona Dizie Guarda andate a quel ristorante La si mangiano i testicoli del toro Che sono Come li preparano poi alla fine del mondo Si vedete Si vedete l'occasione Che c'era in Spagna In Spagna c'era C'è Chiara Sto ristorante qua Cosa Volete mangiare? Mi hanno suggerito Che fate le testicoli del toro Molto ormone Ma non c'era un problema E ce li portarono Ce li portarono Pharmadio Che succede Chiamalo che è bene Ma scusa Dizie Noi abbiamo ordinato Un testicoli del toro Si disse Non sempre morire il toro se A volte morire il torreno Mi portava qui Il torreno Il torreno Ancora 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 Ancora